Per festeggiare al meglio i 6-40 anni, la sportiva Lanzada si veste nuovamente di tricolore. In seguito al doppio appuntamento con i campionati italiani giovanili a staffette e assoluti di corse montagne dello scorso anno, tra poche settimane la località manenca concederà il BIS, proponendo la prova riservata nei giovani premesse della specialità, in programma il 4 giugno nel cuore di Lanzada. Dopo l'esito positivo dalla passata edizione, la FIDAL nazionale con Paolo Germanetto ha voluto darci di nuovo una rassegna nazionale. Quest'anno organizzeremo il campionato italiano a staffette a livello giovanile per le categorie cadette, ovvero gli atleti nati nel 2002 e 2003 e per le categorie allievi nati negli anni 2000 e 2001. Ricordo che per quanto riguarda la categoria allievi e allievi, in palio non solo il titolo nazionale di staffetta, ma anche e soprattutto il titolo ovviamente a squadra, così come i cadetti, ma ritornando alle categorie allievi, usciranno i nomi che rappresenteranno l'Italia ai campionati europei di specialità, ovvero di corsa in montagna. Dopo le categorie promozionali, per le quali non è previsto il campionato italiano, spazio le quattro staffette in programma, dalle 9.40 le cadette femminili, per poi terminare con gli allievi maschili, che affronteranno un percorso da vera corsa in montagna, come confermato dalla campionessa della specialità Alice Gaggi. Il tratto forte di questo percorso è il fatto di trovarsi veramente in ambiente montano. Spesso infatti, soprattutto le gare giovanili, che sono un po' più brevi, sono ambientate anche su percorsi non prettamente montani. Mentre, visto che ho avuto occasione di provare il percorso in occasione del campionato italiano assoluto dello scorso anno, qui a Lanzada non ci si allontana troppo dall'abitato, però effettivamente ci sono tratti davvero tecnici, quindi un percorso davvero vario che permette di far emergere le caratteristiche di ogni atleta. Ma l'appuntamento di Lanzada è a tutti gli effetti uno a due giorni. Nel pomeriggio di sabato è previsto un importante convegno, organizzato dal Comitato regionale Lombardia della FIDAL e dalla sportiva Lanzada, dal titolo Sporti Invernali e Corse Montagna, binomi possibile con i giovani. In programma nella sala Maria Ausiliatrice a partire dalle 17. Moderatore è il presidente della FIDAL Lombardia Gianni Mauri, con Paolo Germanetto, responsabile tecnico della Nazionale di Corse Montagna, Ivan Murada, campione mondiale di sciarpinismo ed ora allenatore del Comitato Fisi Alpi Centrali, e Renato Pasini, campione del mondo di Scindorrico, attuale allenatore del Comitato Alpi Centrali. Grazie.